Botta e risposta tra il consigliere regionale del Partito Democratico Vittorino Facciolla e il governatore del Molise Francesco Roberti a causa delle nomine negli enti regionali. Roberti paga pegni politici, questo l'affondo di Facciolla. Che dopo le ultime elezioni avremmo assistito al pagamento di pegni elettorali era una certezza, tuone il consigliere. Ma che questo dovesse avvenire a discapito di persone professionisti di valore, questo no, non è giusto e non si può rimanere in silenzio. Facciolla si riferisce alla sostituzione del commissario della comunità montana Molise Centrale, Domenico Marinelli, con il sindaco di Petrella Tifernina, Alessandro Amoroso, candidato al fianco di Roberti alle ultime regionali. E si riferisce anche alla rimozione di Fabio Rastelli dal ruolo di commissario del consorzio di bonifica di Termoli Larino. Non tarda ad arrivare la replica del presidente della regione Molise. È del tutto evidente che Facciolla non conosce la realtà dei fatti o finge di non conoscerla. Il consigliere dovrebbe sapere come il commissario del consorzio di bonifica di Termoli Larino, Rastelli, abbia portato in causa la regione Molise con ingiunzioni di pagamento per milioni di euro, richiedendo somme che saranno attenzionate dagli organi competenti. Per quel che concerne Marinelli è da 15 anni commissario della comunità montana Molise Centrale, senza riuscire a concludere l'iter di liquidazione né tantomeno a risolvere la precaria situazione della discarica di Montagano. Credo che cambiare per aggiungere gli obiettivi prefissati, chiude il governatore Roberti, sia lecito nonché nelle piene competenze della giunta regionale. La rottura di i suoi dati contemporanei di un ospedale fare la possibilità di trovare... Grazie! Grazie!